48 denunce di infortunio sul lavoro al giorno in Liguria, un dato che non tiene però conto degli infortuni invisibili, quelli cioè legati al lavoro irregolare. Il report dell'INAIL mostra una situazione di emergenza con l'aumento, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, delle denunce, soprattutto per quanto riguarda il settore delle costruzioni. In crescita anche le denunce relative all'ambito della sanità e dell'assistenza sociale. In aumento anche gli incidenti mortali, se nei primi due mesi del 2023 erano stati tre, quest'anno sono già quattro. Due sono avvenuti nel settore delle costruzioni, gli altri nel trasporto e magazzinaggio, uno a Genova, uno a Savone e due a Imperia. E proprio per quanto riguarda le province, a Genova si registra un aumento di denunce. A Savone il dato è rimasto praticamente invariato, mentre cadono sia a Imperia che alla Spezia. Le cause sono diverse dall'utilizzo di strumenti di lavoro pericolosi al poco rispetto delle norme, passando per la mancanza dei necessari controlli e ispezioni. Sono numeri impressionanti che impongono una riflessione sulla necessità non più rinviabile di affrontare quella che è diventata una vera emergenza sociale, dice Luca Maestripieri, segretario regionale della CISL, che aggiunge. Nessuno può voltarsi dall'altra parte. La piega degli incidenti sul lavoro riguarda tutti. La mancanza di una cultura della sicurezza è il primo incontestabile fattore di rischio. Sempre più spesso l'infortunio è una conseguenza di eccessivi carichi, dell'accelerazione dei tempi di lavoro e di una cultura delle prestazioni e della produttività, che aumenta in margini di rischio, conclude Maestripieri.